Il rischio globale delle scuole non è in ordine grado A vedere questo bellissimo panorama Potrei starci ore e ore Ci vedremo domani mattina con delle novità Vi farò vedere quanta neve sarà scesa Ciao ragazzi come potete vedere questa notte è nevicato tutta la notte come vi ho detto Guardate quanta neve è scesa, incredibile Ora nel tempo libero vado a fare snowboard Ci vedremo sulle piste Ragazzi eccoci qua Sto sciando come potete vedere con lo snowboard Non c'è proprio nessuno Solitudine pazzesca ragazzi Pausa pranzo qua al rifugio Giornata di sci finita Data benissimo Giornata molto intensa di sci E ci vedremo a cena Ed ecco qua la mia cena ragazzi Un risotto e acqua e pane A presto Prima di chiudere questo video volevo fare un appello rivolto a noi ragazzi Vi state rendendo conto in che situazione stiamo vivendo? Io sono molto preoccupato perché ogni giorno ci sono migliaia e migliaia di casi Invece di diminuire questi casi di coronavirus stanno aumentando Dunque per evitare di essere contagiati vi chiedo gentilmente di non andare nei luoghi pubblici affollati State all'aria aperta Usate la mascherina magari quando andate nelle metropolitane di Milano Andate a farvi delle camminate durante il giorno Anche perché c'è gente più anziana di noi che sta rischiando la vita per questo problema Quindi per favore Lo chiedo anch'io col mio cuore Cerchiamo di fare una cosa giusta e sana Per non essere contagiati anche noi per favore E vi ringrazio a tutti E vi ringrazio a tutti